Io ringrazio quell'artigiano del marmo che ho incontrato stamattina a Carrara e sottovoce mi ha detto Matteo ti chiedo scusa perché io ho votato per una vita a sinistra ma a sto giro voto Susanna e voto Lega perché la mia sinistra mi ha fregato con la legge Fornero e la Lega mi ha liberato dalla gabbia della legge Fornero. E io vi do la mia parola d'onore che se il PD a Roma proverà a tornare a chiudere gli italiani perché così chiede l'Europa nella gabbia della legge Fornero noi educatamente, civilmente, rispettosamente come Lega daremo battaglia dentro e fuori dal Parlamento perché alla legge Fornero non si torna perché col lavoro delle Toscane e dei Toscani non si scherza perché con la vita dei lavoratori non si scherza e lo diciamo prima terra di bellezza, terra di cultura, noi non vogliamo importare in Toscana altri modelli l'unico modello che vince in Toscana è il modello toscano basato sul merito e sull'efficienza questa è la terra di Michelangelo, è la terra di Galileo e questa piazza mi fa ripetere che dopo 50 anni la Toscana eppur si muove